Controlli duri e costanti in tutto il territorio comunale di Agropoli da parte dei vigili urbani. Dopo il potenziamento sui controlli apportato dall'amministrazione guidata dal sindaco Adamo Coppola, sono sempre più presenti le forze dell'ordine in città. I posti di blocco ad Agropoli sono presenti su tutte le vie principali e grazie alle aggiunte di personale nel corpo dei vigili sono aumentati anche i provvedimenti. Oltre ad auto e pedoni che vengono costantemente controllati, sono tante anche le denunce che sono state fatte su soggetti trovati fuori dalle proprie abitazioni senza un motivo valido. Soprattutto in zona San Marco, una delle più trafficate solitamente e anche più discusse in questa emergenza, visto il traffico presente, i controlli si sono fatti sempre più pressanti. Non solo controlli sulle strade però, ma anche un supporto aereo tramite droni per individuare eventuali assembramenti e per permettere un intervento tempestivo delle forze dell'ordine. Agropoli è sempre più blindata. Grazie. Grazie.